Gentili telespettatori buona giornata, rassegna stampa di oggi mercoledì 30 marzo 2022, prove di tregua sotto i missili, cominciamo con il Corriere della Sera, colloqui in Turchia-Mosca disposti ad arretrare le truppe da Kiev, i dubbi dei leader di Stati Uniti e Unione Europea, strage a Mikolaev e intanto scontro sulle spese militari. No di Conte Draghi sale da Mattarella dicendogli se oggi non me lo votano io do le dimissioni e cade il governo. Andiamo poi a vedere un altro quotidiano e vediamo che vediamo che andiamo a vedere la Repubblica che titola La tregua promessa soglia spiragli di intesa dai colloqui a Istanbul il resta il nodo del Donbass per gli europei ci sono chance USA e britannici scettici Mosca frena l'assalto a Kiev ma l'offerta continua bombe sui civili nell'est dell'Ucraina almeno 400 vittime a Gerniv i russi allo Spallanzani ebbero accesso alla banca dati dei vaccini del Nato e poi andiamo a vedere festa del cinema la squalli da verità su una scelta miope e poi scintille tra Draghi e Conte poi il premier sale al colle l'identità irrisolta dei 5 stelle e adesso andiamo a vedere un'altra prima pagina vediamo la stampa che titola i primi spiragli di pace speranze dai negoziati in Turchia trattative separate per Crimea e Donbass la Russia annuncia una riduzione delle attività militari Zelensky apre sulla neutralità ma non mi fido Biden parla con i leader europei dialoghiamo solo se il Cremlino ferma le armi e vediamo la ritirata strategica della Russia in un conflitto che non riesce più a portare avanti l'ite Draghi Conte il premier sale al colle spese militari il leader Movimento 5 Stelle non cede Palazzo Chigi così viene meno la maggioranza e poi vediamo qui il trafiletto torna allo spettro dell'Afghanistan per la Russia impantanata come fu in questo paese andiamo a vedere un'altra prima pagina vediamo Libero Quotidiano che parla di Putin si ferma Conte diserta tregua a Kiev chaos in Italia l'armata rossa si ritira per favorire le trattative il Cremlino la strada è ancora lunga Draghi avvise grillini o armi o crisi di governo e poi Biden crocifisso perché dice la verità definire lo zarro un macellaio è tutt'altro che esagerato e poi vediamo che Erdogan tratta il cessato il fuoco e il gas ora passa da lui siamo nelle mani del dittatore turco e purazione a a fincantieri salta la prima testa per gli affari di D'Alema se arriverà la pace sarà molto armata nessuno si fida più di Mosca la Nato si allargherà e poi la guerra può finire la crisi durerà l'Italia ha già perso 41 miliardi di PIL pioggia di miliardi sui comuni di sinistra i buoni amministratori rossi coperti di debiti paga lo Stato e adesso andiamo a vedere un'altra prima pagina e vediamo il giornale che titola Berlusconi vede Salvini ora evitare nuove tasse perché se no si favorisce Fratelli d'Italia per le elezioni questo è la tristissima il tristissimo incontro tra Salvini e Berlusconi per cercare di bloccare ancora una volta Fratelli d'Italia quella che è Giorgia Meloni la leader del centro-destra che in realtà da questo capiamo che non esiste più il ricatto di Conte alle spese militari e spacca il governo Draghi sale al colle negoziati doppio gioco di Putin e spiragli di tregua si tratta sull'Ucraina in Unione Europea e Donbass Mosca attività militare ridotte su Kiev ma attacca il sud il ridispiegamento in vista di altre conquiste e poi dopo il gas gli eurobond lo zarci in catena al rublo il problema di Zelensky come cedere senza perdere forse non è il problema di Zelensky ma è il problema di Putin come uscire dal conflitto senza fare la figura di aver perso dipende da uno come vuole vedere la cosa e poi le catastrofi costruiscono le identità collettive e poi anche qui si parla di D'Alema tra bugie e parcelle rotola la prima testa in Italia e andiamo a vedere un altro quotidiano vediamo il fatto quotidiano che titola da Kiev niente e verità sulla morte di Andy e poi riarmo di Conte Draghi tenta il ricatto Putin trasloca a sud Biden gela il dialogo truppe e negoziati i russi via Kiev verso il Donbass bozza di accordo in Turchia slipigò la bombarda e poi andiamo a vedere un'altra prima pagina vediamo la prima pagina della verità che dice qualcuno vuole che la guerra continui noi rischiamo di restare a secco spiragli per la pace allarme per il gas primi risultati al tavolo delle trattative in Turchia sia russi che ucraini parlano di passi avanti persino i mercati sembrano crederci salgono le borse scendono i prezzi solo gli americani remano contro dal Cremlino non arriveranno segnali di serietà ma l'Europa non ha bisogno di benzina sul fuoco anche perché la grana dei pagamenti in rubli non è affatto risolta in realtà non è che gli Stati Uniti frenano sulla pace ma in realtà i servizi segreti hanno informato il governo degli Stati Uniti che quella da Kiev non è una vera e propria ritirata di Putin ma sta spostando le truppe verso il Donbass per cercare di prendere dei territori perché ha capito che non riesce a prendere e non riuscirà a prendere la capitale e poi dire che Biden sbaglia non significa essere putiniani di Francesco Borgonovo e poi Daniele Capezzone una saldatura Mosca-Pechino la vera minaccia per l'Occidente e Claudio Antonelli Draghi aumenta le spese militari avverte Conte così o tutti a casa e poi vediamo Burioni ho capito tutto del Covid a gennaio 2020 poi ha nascosto le tracce il mistero del generale arruolato in Colombia dagli amici di D'Alema lo spettro della corruzione internazionale nell'affare finalizzato a fornire armamenti c'erano mire anche su Paraguay e Uruguay e i divietti di speranza hanno ucciso 45.000 locali venerdì cessa l'emergenza pandemia non le restrizioni e si contano i danni poi meglio un'opinione idiota che questo fastidio per la libertà la risposta de Rita e andiamo a vedere dopo la verità vediamo il tempo che titola la crisi ucraina guerra e pace mentre a Kiev si spara ancora a Istanbul si apre lo spiraglio per non cessate il fuoco scende in campo anche Biden sente il leader dell'Unione Europea chiede ora la Russia passi ai fatti Putin risponde a Macron si agli aiuti a Mariupol ma i miliziani si arrendano e vediamo poi cartelle da pagare fino al 9 di maggio ultima possibilità per la rottamazione fiscale in Turchia un successo pieno di tristezza gli azzurri vingono 3 a 2 poi l'intervista a Claudia Gerini ho provato 70 ruoli ma resto una donna molto complicata sorteggio dei membri del CSM la maggioranza si divide Draghi fa l'accordo con Fratelli d'Italia Movimento 5 Stelle esplode inaccettabile fare accordi e accettare una proposta dell'opposizione per le spese per la difesa da portare al 2% grano e petrolio in calo in borsa torna l'ottimismo e andiamo adesso a vedere un altro giornale vediamo il messaggero che titola primi segnali la sabbia di Kiev per difendere un'identità le statue protette e poi Movimento 5 Stelle dice no alle spese militari Draghi al colle così sarà crisi e poi assalto a colpi di mitra 5 morti a Tel Aviv più carbone nelle centrali italiane al via il piano per risparmiare il gas andiamo a vedere adesso dopo il messaggero vediamo il sole 24 ore Ucraina primi spiragli per un'intesa borse in ripresa Unione Europea e Stati Uniti prudenti bollette boom di mancati pagamenti è ovvio se uno i soldi non ce l'ha si trova una bolletta da 400 euro super bonus e villetti il governo valuta il rinvio del termine del 30 di giugno grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata Grazie a tutti per avermi ascoltato a tutti per avermi ascoltato Grazie a tutti.